Continuano gli approfondimenti quotidiani a Radio.0 sull'emergenza coronavirus, stiamo provando a raccontarla a tutto tondo, sia sotto il profilo della salute, l'abbiamo fatto con medici, scienziati e grandi esperti, adesso teniamo molto a cuore il profilo della ripartenza. Nella fase 2 dell'emergenza coronavirus si è capito, da un discorso non chiarissimo del Presidente del Consiglio in verità, che si ripartirà a velocità diverse, forse anche a seconda dei territori italiani più o meno pieni di contagi e di rischi, e si partirà a velocità diverse anche negli sport. E' chiaro che ci saranno molte differenze tra spazi chiusi e spazi aperti, tra sport individuali e sport di gruppo. Oggi, nel giorno del cinquantesimo compleanno di un grande mito dello sport mondiale come Andre Agassi, abbiamo scelto di partire proprio dal tennis per analizzare quella che potrà essere la fase 2 di uno degli sport più popolari del nostro paese, lo facciamo con grande piacere con il Presidente della Federtennis Campania, Virginia Di Caterino, benvenuta a Radio.0. Buonasera, grazie mille per l'invito. Allora, Virginia, intanto, come dire, il tennis oggi celebra un compleanno straordinario. Per dare un numero ai nostri radiascoltatori, ci sono soltanto quattro tennisti nella storia assoluta del tennis che hanno fatto il Golden Grand Slam, cioè mettere assieme le quattro prove dello slam e un oro olimpico. Due di questi tennisti sono marito e moglie, si chiamano Andrea Agassi e Steffi Graff. Quindi oggi è una giornata particolare per il tennis, ma c'è tanta voglia soprattutto di tornare a giocare, oltre a vedere le grandi partite dei nostri miti in televisione, come magari molti di noi stanno facendo. Onestamente si è capito poco nel burocratese del decreto del governo Conte. Io racconto questo retroscena. Quando ti ho chiamato ho detto per parlare di questo tema ci vorrebbe un bravo avvocato amministrativista. E tu hai detto questo è il mio mestiere. Che possiamo dire agli appassionati di tennis che non vedono l'ora di riprendere le racchette in mano? Beh, innanzitutto io mi rendo conto che è un periodo difficilissimo, soprattutto per chi è abituato a fare sport e a praticare lo sport all'area testa come il tennis. Quindi adesso che iniziano le belle giornate, la bella stagione, in effetti diventa ancora più difficile stare a casa. Purtroppo noi non abbiamo una data certa per la ripartenza. Speravamo come fede al tennis nazionale che delle prime indicazioni potessero arrivare per noi al 4 maggio. Probabilmente la gradualità nelle scelte è dettata dalla gravità di questa epidemia che ci costringe ad una chiusura portata in casa da più di 60 giorni. Io naturalmente attendo con ansia, come tutti quanti, quelle che sono le direttive ministeriali e spero vivamente che a stretto giro nei prossimi provvedimenti governativi riusciremo ad avere, anche se simili ma quantomeno importanti, segnali per la riapertura dei circoli di tennis che già darebbero uno spiraglio ai tanti lavoratori che girano intorno al mondo del tennis. Ecco, scusami, cerchiamo di precisare questo punto. Tu hai scritto il 18 aprile anche una lettera molto ben strutturata al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che è stato tra quelli più duri, forse anche giustamente, nella fase grave dell'epidemia. Questo ha consentito alla nostra regione di mantenere molto basso il numero anche degli accessi alle terapie intensive. Oggi è tra quelli che, con questa prima apertura sulle attività motorie già al 27 aprile, sta provando piano piano ad avviare una fase 2 anche più spinta di quella del governo. Che cosa hai chiesto al presidente De Luca? Ma soprattutto diamo contezza un po' di quelli che sono, seppur brevemente, in un contesto radiofonico, i numeri dell'indotto economico della Federtennis in Campania. Certamente, sì. Allora, la lettera che ho sottoscritto, insieme con il Consiglio regionale, che mi onoro sempre di rappresentare, ha voluto sottolineare, innanzitutto far conoscere il tennis, perché non è detto che a livello regionale si conosca il tennis come deve essere conosciuto in questo periodo. Abbiamo, e ho voluto sottolineare che è uno sport considerato, anche da un punto di vista di ricerca scientifica, tra i più sicuri di quelli attualmente praticabili in Italia. Ho dato una visione, anche se molto generale, al presidente De Luca di quelli che sono i numeri del tennis in Campania. Non è uno sport esclusivamente amatoriale. Considera che noi, fino all'anno scorso, avevamo tre squadre nel massimo campionato di Serie A 1 italiano. Abbiamo circa 400 maestri, 113 scuole tennis, 171 circoli, affiliati alla FIT e circa più o meno 9500 testerati. Questo fa capire che il movimento soffre, ma soffrono anche tutti coloro che lavorano e che vivono e che fanno vivere le famiglie intere dietro al movimento sportivo. Perciò è importante che si capista per sempre nella massima sicurezza e con il rispetto pedifico dei criteri che verranno indicati dal Ministero, il tennis non è uno sport come gli altri. Il campo è a tutti noto. Allora, su questo ti debbo fermare perché abbiamo una brevissima pausa. Rientriamo e approfondiamo proprio questo tema delle modalità con cui potremo tornare a giocare. Siamo con Virginia Di Caterino, presidente Federtennis Campania, maestra federale, stata tra i top 5 delle donne tenniste italiane nelle sue categorie Under 12 e Under 14, è arrivata a giocare fino alla Serie B, oggi è anche membro dell'Aiat, l'associazione avvocati tennisti. Detto della straordinaria voglia di tornare in campo, probabilmente lo si potrà fare magari dal 18 maggio, ce l'auguriamo, gli atleti professionisti già da lunedì inizieranno ad allenarsi. Con quali accorgimenti? Ho letto come dire una sorta di decalogo che si sta provando a elaborare in Federtennis. Si dovrà tornare a giocare in uno sport in cui ci sono 20 metri di distanza, ricordiamolo, arrotondando, credo siano 23 e qualcosa. Poi dipende quanto si rema a fondo campo e quanto invece si ha voglia, come me per esempio, di accorciare gli scambi ed andare a rete. Le distanze possono diminuire, ma la famosa soglia dei due metri rimane abbastanza, abbondantemente tranquilla, tranne qualche scontro ravvicinato a rete. È ovvio che per esempio all'interno dello stesso tennis il doppio è molto più rischioso, tra virgolette, sotto questo profilo rispetto al singolare. Ma quali saranno questi accorgimenti a cui dovremo purtroppo abituarci, credo almeno per un bel po' di mesi? Per esempio, dovremmo cambiare anche noi il modo di vedere il nostro sport in campo. Cioè da specificare che il decalogo che la Fener Tennis ha emanato qualche settimana fa è un decalogo che attiene però soltanto al campo, cioè a ciò che succede nel campo. Perché poi dobbiamo anche distinguere all'interno di un circolo di tennis quella che è la struttura, la fede sociale, che avrà una regolamentazione diversa, regionale o comunale, secondo quelle che sono le direttive degli enti. A mero titolo esemplificativo posso dirti ovviamente che non ci sarà più la stretta di mano, sarà prevista la sanificazione ad ogni termine di partita, si parla della mano sinistra o della mano destra che non verrà utilizzata quando si gioca, di coprirla con un guanto per evitare che la pallina possa entrare a contatto direttamente con la pelle. La Fener Tennis ha suggerito di cambiare l'overgrip, cioè quello che fondamentalmente chiamiamo manico, ogni volta che si gioca una partita. Ma questi sono gli aspetti tecnici che immagino poi saranno sottoposti all'attenzione del Comitato Tecnico Scientifico. Quello che mi preme però, se mi consenti, da sottolineare è che la Fener Tennis è stata probabilmente la prima federazione sportiva italiana dopo due settimane dall'inizio del lockdown a fare una manovra finanziaria e questo è visibile sul sito anche della Fener Tennis che ha consentito di stanziare delle somme e ricircoli. Il primo interesse della Fener Tennis è stato quello di dire ok, iniziamo a togliere le tasse che normalmente vengono versate dai circoli alla federazione. In questi giorni i circoli stanno avendo il rimborso di tutte le tasse che hanno già versato, l'iscrizione campionata a squadre, l'assidazione che verrà rimborsata con 72 toglie di palle e noi come Comitato quando tutto inizierà in contrasquadre, speriamo che inizino i contrasquadre e i torni individuali, stiamo predisponendo una serie di misure anche economiche per incentivare i circoli, questo è il nostro interesse, e far sì che i circoli non chiudano per questo motivo perché anche se con difficoltà tutti possano riprendere. Questo tema degli sgravi fiscali, delle restituzioni, dei rimborsi, ma perché no, direi quasi del baratto, mi ci hai fatto pensare sul discorso delle palline, credo e spero che possa essere un tema che anche a livello nazionale il Governo centrale possa prendere in considerazione che qualsiasi attività deve comunque poi affrontare delle spese, a questo punto invece di aspettare mesi per avere un piccolo contributo è meglio mettersi d'accordo con lo Stato e magari trovare altre modalità più efficienti, più veloci e più pratiche e con poca burocrazia per far sì che questa emergenza non ci crei troppi problemi dal punto di vista economico come già sta succedendo. Ci sarebbe tanto altro da dire, il tempo purtroppo è poco, mi fa piacere però rimandare questo appuntamento magari a quando saremo ritornati in campo, a giugno, al più tardi potremo raccontare con Virginia Di Caterino quale sarà stato il ritorno allo sport perché poi in questo percorso di salute che dobbiamo fare in questa fase è assolutamente importante da un punto di vista fisico e psicofisico tornare a fare sport anche e soprattutto per i bambini. Grazie per essere stata con noi a Virginia Di Caterino. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Grazie.